Ciao, Gossip News! Siamo qui all'inaugurazione di questo centro fitness, tu che rapporto hai con il tuo corpo? Beh guarda, fino a poco tempo fa ho un rapporto direi abbastanza costante. Adesso con i bambini riesco poco, però quando posso mi prendo un po' di tempo per me e mi dedico a me stessa.